Oggi nuova video recensione perché voglio parlarvi di un film che qui in Italia non ha visto le sale ma è stato distribuito ormai da diversi giorni su Prime Video, un film che mi incuriosiva, che mi attirava, forse anche solo per la presenza di un attore protagonista che io stimo infinitamente, cioè Jay Gilenal, e sto parlando infatti del film Roadhouse, un film che tra l'altro si configura come una sorta di remake di quello che è il film degli anni 80, il duro del Roadhouse, con il compianto Patrick Swayze. Un film tra l'altro quello che io purtroppo non ho mai visto ancora, quindi ve lo dico fin da subito, ogni forma di paragone, parallelismo, confronto tra il film di oggi e il film degli anni 80 io non posso farlo, è un paragone che non ho la possibilità di affrontare, fermo restando che secondo me non ha neanche senso fare questi paragoni, soprattutto con dei film appartenenti ad epoche così lontane, ma ci arriveremo con calma. Prima di iniziare, come sempre vi ricordo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, a voi non costa nulla, è un gesto rapido, semplice, ma per me molto importante, vi ricordo anche se avete apprezzato questo video, di lasciare il vostro mi piace, di commentarlo chiaramente con la vostra opinione sul film che andremo a recensire oggi, condividete il video ovunque vogliate, poi vi ricordo anche che vi aspetto su Instagram, su Facebook e nel mio canale Telegram, trovate i link in descrizione. Ma detto questo, passiamo quindi alla recensione vera e propria, quindi di questo film, Roadhouse, un film che trovate appunto su Prime Video ormai da diversi giorni, con Jay Ginell, protagonista principale, chiaramente ve ne parlerò senza fare nessun tipo di spoiler, ma è anche vero quello che ho detto poc'anzi, siccome questo è un film che è stato realizzato sulla falsariga del duro del Roadhouse degli anni Ottanta, potreste già aver visto quel film e quindi lo spoiler è tutto sommato relativo, però potrebbe anche darsi che tra di voi ci sia qualcuno che quel film, come me, non lo ha visto e quindi tutto quello che succede in questa pellicola fondamentalmente è una sorpresa. Tra l'altro non so neanche se il film Roadhouse di quest'anno si sia preso delle libertà rispetto al precedente, però come stavo dicendo poc'anzi, il paragone lascia un po' il tempo che trova, io ne ho parlato nella mia pagina Facebook per esempio e c'è chi tra i commenti ha scritto non dovrebbero fare più questi remake, il paragone non si può fare, il film degli anni Ottanta era nettamente migliore, ora può anche darsi, cioè può anche darsi che il film degli anni Ottanta sia nettamente migliore a questo, non lo metto in dubbio, ma andare a criticare i remake così per partito preso, secondo me non ha molto senso, il remake esiste da quando esiste il cinema fondamentalmente, li facevano anche i grandi maestri del passato, basti pensare ad Alfred Hitchcock, ma non soltanto, quindi anche negli anni Quaranta si realizzavano già dei remake e nel corso dei secoli, dei decenni, sono arrivati fior fior di capolavori che sono dei remake, quindi attaccare i remake così in maniera acritica non ha molto senso, c'è anche chi dice sì ma non si devono toccare i film degli anni Ottanta perché il risultato finale che si ottiene è sempre scadente, anche questo non credo sia vero perché il commento spesso è dettato dalla nostalgia di quegli anni, ma non è neanche vero che andando a scimmiottare gli anni Ottanta si realizzino soltanto delle ciofeiche, anzi proprio negli ultimi tempi andando a in qualche modo prendere ispirazione da quegli anni sono stati realizzati degli ottimi prodotti, ma non soltanto cinematografici, anche televisivi, Stranger Things per intenderci, quindi andiamo con calma, poi è ovvio che il film può non piacere, può anche darsi che il film sia inferiore a quello che era il film degli anni Ottanta, però andiamo a valutare i singoli film, secondo me è necessario fare questo, ed è questo quello che faremo oggi con questa video recensione. Di cosa parla in generale Roadhouse, ma concentriamoci appunto su questo film, il film racconta la storia di un ex campione della UFC americana, Elwood Dalton, interpretato proprio da Jake Gyllenhaal, il quale ha abbandonato l'attività agonistica e cerca di sbarcare il lunario in qualche modo, diciamo, rimanendo coinvolto in quelle che sono le lotte clandestine che si svolgono appunto in luoghi diciamo abbastanza malfamati, tra l'altro siccome la fama lo precede, spesso succede anche che i suoi sfidanti non vogliono neanche sfidarlo e quindi lui vince a tavolino, ma viene poi chiamato da una ragazza per cercare di, la quale cerca di convincerlo a lavorare per lei in quello che è il suo locale, il Roadhouse, fondamentalmente come butta fuori, perché? Perché è un locale nel quale ormai da diverso tempo, soprattutto la sera, la notte, si concentra una grande quantità di persone che dopo essersi ubriacate inizia a creare trambusto, quindi si creano delle risse in maniera continuativa e quindi serve qualcuno che possa in qualche modo sedarle, possa in qualche modo controllarle. Tutto questo però, diciamo, con Dalton che non sa che rimarrà coinvolto in degli affari ancora più grandi che coinvolgono proprio il Roadhouse, proprio perché il locale di questa ragazza è al centro di alcune manovre di personaggi non proprio cristallini, quindi personaggi anche della malavita locale, che sono in qualche modo intenzionati a mettere il bastone tra le ruote di questo locale. Non vi dico altro perché non voglio spoilerarvi in nessun modo questo film, un film che come detto mi incuriosiva, sicuramente, ne avevo già sentito parlare da alcune persone che già lo avevano recuperato il giorno stesso in cui era stato distribuito su Prime Video, e bene o male le opinioni che avevo avuto modo di ascoltare e di assaporare erano le stesse, cioè vi dovete aspettare, ed è quello che vi dico anche io, vi dovete aspettare un film cacciarone, una tamarrata senza precedenti, un film che vuole, non vuole anzi assolutamente prendersi sul serio per neanche mezzo secondo, ma la sua forza è proprio questa. Perché? Perché è una pellicola nella quale Jake Gyllenhaal non fa altro che, diciamo, avere un personaggio, a disposizione un personaggio che in effetti è veramente un personaggio quasi figlio degli anni Ottanti, è un personaggio molto simile a tutti quei personaggi muscolari che andavano per la maggiore proprio in quegli anni, tanto che infatti sono figli di quegli anni tanti attori anche muscolari, basti pensare a Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme per esempio, anche lo stesso Chuck Norris fondamentalmente, quindi tutto, Steven Seagal, ma ne potrei elencare anche tantissimi, quindi erano figli di un cinema muscolare che andava per la maggiore appunto negli anni Ottanti, negli anni Ottanta, anche Patrick Swayze per molti aspetti, anche se poi lui in realtà ha realizzato molto altro, quindi per questo motivo non vi dovete aspettare in nessun modo un film impegnato, ci mancherebbe altro, è un film che continua in ogni sua sequenza a barcamenarsi tra la commedia e il film action, con delle sfumature di thriller perché ovviamente da un certo momento in poi bisogna anche capire come le cose andranno a finire e si cominciano a verificare anche degli eventi particolarmente movimentati, ma è una commedia, fondamentalmente è una commedia tamarra e va benissimo così, è una commedia cacciarone, è una commedia che si, come dire, poggia le proprie basi quasi interamente su quelle che sono le scazzottate che andranno a coinvolgere i protagonisti, soprattutto Jake Gyllenhaal. Poi, tra l'altro, c'è anche una chicca da un certo momento in poi che vi posso, diciamo, dire, perché non è uno spoiler, credo che il personaggio di questo attore, che poi attore, chiamarlo attore, vabbè, lo si sia già visto anche nei trailer, e cioè, con Norm McGregor, un, come dire, credo sia un wrestler, se non ricordo male, quindi una personalità di spicco proprio di quelli che sono i movimenti di combattimento, anche artisti, come mettiamola così, negli Stati Uniti, credo sia un wrestler, però non vorrei sbagliarmi, che interpreta se stesso fondamentalmente, interpreta un personaggio, appunto, muscolare, un personaggio con un fisicaccio da paura, completamente sbarellato, completamente fuori da ogni logica, da ogni ragione, è un personaggio divertentissimo anche per questo, quindi lui è stato molto bravo anche nel dare un'ulteriore vena comica al film, e dico anche comica, andando oltre proprio il divertente, andando ad impreziosire quello che già di suo, comunque, è un film che ho detto già essere tamarro, quindi è un film che non vuole prendersi sul serio, è un film che vuole soltanto intrattenere, è un film di intrattenimento puro e crudo, e va benissimo così. Il bello di questo film è che va benissimo così, perché non bisogna aspettarsi niente, e nonostante non ci si debba aspettare niente, il film comunque riesce a regalare poco meno di due ore di intrattenimento pieno di scazzottate, come vi dicevo, senza alcun impegno, senza che ci si debba scervellare nel cercare di capire quello che sta succedendo davanti ai nostri occhi, ma tutto funziona a meraviglie. Tra l'altro, devo anche dire che, da un punto di vista tecnico, il film non è neanche niente male, perché, registicamente parlando, secondo me ci sono anche delle trovate molto interessanti proprio in quella che è la gestione delle sequenze d'azione, in quelle che sono le sequenze movimentate, numerosissime, durante il film, con anche dei cambi di inquadratura che mi hanno sorpreso, perché si passa dall'inquadratura classica, mettiamola così, in terza persona, che chiaramente ci fa vedere quello che sta succedendo, quindi soprattutto nel momento in cui si accendono le risse, e poi si passa anche spesso ad un'inquadratura in prima persona che ci fa vivere quasi in maniera diretta tutto quello che i personaggi stanno facendo. Ora, detto così, sembrerebbe una minchiata, ma vi assicuro che non lo è, proprio nell'ambito di quella che è l'atmosfera che si viene a creare nel film. Quindi, anche da un punto di vista registico, il film comunque mi ha sorpreso, e tutto mi sarei aspettato da un film del genere, tranne che essere sorpreso da quello che è il comparto registico. Tra l'altro, il regista, del quale in questo momento mi sfugge il nome, è lo stesso regista che in passato, per esempio, ha diretto The Born Identity, il primo film di quella che poi sarebbe diventata la saga con Maddemon protagonista, Mr. and Mrs. Smith, Edge of Tomorrow, quindi comunque un regista che ha a che fare, e che ha avuto a che fare anche con film di spionaggio, per esempio, film action, film thriller, quindi un regista che, diciamo, se la cava dietro una macchina da presa e lo dimostra con questo film, ripeto, comunque senza mai prendersi sul serio. È una pellicola che poi, ovviamente, si avvale anche di un buon comparto musicale con delle atmosfere che vengono impreziosite anche da dei brani, spesso anche cantati da personaggi presenti in scena, quindi l'alternanza tra musica diegetica ed extra diegetica, e poi, ovviamente, è chiaro, è un film che, in qualche modo, come dire, la sua essenza pura e cruda la trova nei suoi protagonisti, e soprattutto, mi viene da dire, in Jack Gyllenhaal, un attore che in carriera, tra l'altro, è stato in grado di fare qualunque cosa, qualunque cosa, per me è uno degli artisti migliori di quella che è la generazione al quale appartiene, perché? Perché ha fatto film impegnati, film di fantascienza, film thriller, film di qualunque tipo, commedie, film anche action, un film nel quale anche lui qui, chiaramente, interpreta un personaggio che, tutto sommato, devo dire, è molto meno banale di quanto possa sembrare, perché, sì, è ovvio, non è che si debba andare a fare chissà quale analisi psicologica per poter apprezzare, per poter valutare il personaggio di Dalton, appunto, interpretato da Gyllenhaal, però non è così superficiale, non è un personaggio così stupido come potrebbe sembrare a prima vista, sì, chiaramente, ripeto, è un omaggio anche a quelli che sono i, a quelli che erano gli attori palestrati muscolari degli anni Ottanta, ma si va oltre, ecco, si va oltre. Ripeto, non posso fare il paragone con Patrick Swayze, con quello che era il personaggio corrispondente nel film Il Duro, The Roadhouse, perché quel film non l'ho visto, quindi, lasciatemi dire, non mi interessa neanche granché il paragone. Per me, Jack Gyllenhaal se l'è cavata alla grande, perché, da grande attore qual è, ha saputo, in qualche modo, cogliere in pieno quella che è l'atmosfera generale del film. Lui non si è preso sul serio neanche per un secondo in questo film, è stato in grado di calarsi proprio nel clima della tamarrata totale, di questo clima caciarone, che chiaramente lo vede al centro di tutta una serie di vicende, dall'inizio fino alla fine. Quindi, davvero, bravissimo anche lui, è ovvio che non potremo mai parlare di questo film come del suo film migliore, neanche della sua prova attoriale migliore, ci mancherebbe altro, ma i grandi attori, secondo me, si vedono anche in questo, si vedono anche quando, non prendendosi sul serio, riescono a divertirsi, perché Jack Gyllenhaal mi ha dato la sensazione di divertirsi da morire, interpretando questo personaggio in questo film, lo fanno in maniera comunque credibile, quindi dando anche un certo spessore, dando una certa rilevanza comunque al personaggio, quindi senza lasciarsi andare a delle prove scialbe, a delle prove incolori. No, non succede, Gyllenhaal, bravissimo, e ripeto, lui è la punta di diamante di un film che non è ovviamente tra i film più, come dire, più belli che abbia visto negli ultimi tempi, non è quel film indimenticabile, che chiaramente non credo neanche volesse essere realizzato come tale dai suoi sceneggiatori e dal suo regista, è un film che potrei anche rivedere con piacere tra qualche tempo, così, in maniera tale da poter passare poco meno di due ore in maniera gradevole, diciamo, intrattenuto da una storia senza nessuna pretesa, ma va bene, il cinema è anche questo, il cinema è anche intrattenimento, è intrattenimento però realizzato con un certo criterio, è intrattenimento in grado di divertire, ma non in maniera, come dire, mi verrebbe dire, volgare, non in maniera becera, no, è un film, cioè, come dire, l'intrattenimento, il divertimento deve comunque anche fornire, non dico degli spunti di riflessione, però comunque in grado di far muovere il cervello, perlomeno anche cercando degli spunti interessanti, come ho detto anche in questo film, e poi chiaramente lasciando quel sapore, come dire, dolce in bocca, di non avere perso due ore di tempo, perlomeno, io non ho avvertito, innanzitutto, diciamo, il passare dei minuti, non che il film duri tanto, ma le due ore sono volate via, grazie appunto a tutto quello che succede in scena, folli completi, da un certo momento in poi si raggiungono dei livelli di follia totale, grazie anche appunto a Conor McGregor, non sono, ripeto, non ho percepito la noia, è chiaro, non è un film perfetto, non lo vuole essere, secondo me ci sono delle lacune, anche qui e lì, proprio quella che è la sceneggiatura di base, ci sono dei personaggi che vengono soltanto, come dire, accennati, mettiamola così, per quanto poi abbiano una loro importanza, sono abbastanza stereotipati, però va benissimo così, va benissimo così, Roadhouse è una delle, come dire, delle visioni più gradevoli, piacevoli, di intrattenimento degli ultimi tempi, ed io mi sento di consigliarlo, chiaramente, a tutti coloro, che hanno la possibilità mentale, di sintonizzarsi su questo livello, quindi non vi aspettate nulla, per due ore, passate magari con gli amici, passate con la vostra, con il vostro partner, la vostra partner, ma anche da soli, in realtà l'ho visto da solo, e mi sono divertito lo stesso da morire, quindi potrebbe essere il film adatto a voi, quindi lo trovate su Prime Video, quindi questo era quello che volevo raccontarvi, del film Roadhouse, ribadisco, non facciamo, o meglio, se li volete fare, fateli i paragoni con il film degli anni Ottanta, ma non vi saprò rispondere nel merito, fino a quando non vedrò anche quel film, e credo tra l'altro che il duro del Roadhouse sia anche quello presente su Prime Video, mi hanno segnalato, quindi devo ancora documentarmi, però eventualmente, se mi volete fare sapere che cosa ne pensate anche di quello, scrivetelo qui nei commenti, perché vi leggerò con molto piacere, quindi questo era quello che pensavo del film Roadhouse, io vi ringrazio, come sempre, per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi, guardando i miei video, iscrivetevi al canale, ve lo ricordo, ve lo ribadisco, importante per me, a voi non costa davvero nulla, è un gesto rapido e semplice, vi ricordo anche di lasciare il vostro mi piace, se questo video vi sarà piaciuto, commentatelo, condividetelo ovunque vogliate, e vi ricordo anche che vi aspetto su Instagram, su Facebook, nel mio canale Telegram, i link li trovate in descrizione, noi ci becchiamo in un prossimo video, in una prossima video recensione, in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale, io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornate, ci vediamo presto, ciao a tutti.